Musica Domenica 13 settembre all'interno della Sagra della Goletta a Ponterio di Trecastelli si è svolta la seconda edizione di Trecastelli a quattro zampe sfilata ammatoriale aperta a tutti i cani e ai loro proprietari Musica Oltre 50 gli animali in passerella folta la partecipazione del pubblico intervenuto Musica Premi per il primo, secondo e terzo classificato per il cane più simpatico miglior coppia, cane padrone, miglior levriero, miglior bovaro del Bernese Musica Un tre castelli a quattro zampe che seppure con soli due anni di vita si presenta come manifestazione di sicuro interesse ben strutturata all'interno di una sagra, quella della Goletta di Ponterio ormai radicata nella vallata del Cesano Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.